Cari amici, io credo che la quantistica ci venga incontro anche in questo momento così difficile che ci sta mettendo alla prova tutti. Praticamente, sono convinto che dobbiamo applicare la quantistica alla nostra vita in questo momento e arrivo alle motivazioni. Faccio riferimento al famoso principio di indeterminazione che dà origine alla teoria delle probabilità. Non abbiamo più certezze, non ne abbiamo più, le certezze che avevamo si sono dissolte con questa pandemia. Quindi dobbiamo affidarci alla teoria delle probabilità della meccanica quantistica. Praticamente noi davanti, se non abbiamo più certezze, abbiamo sicuramente tantissime, infinite, innumerevoli probabilità. E sta a noi cercare nelle pieghe di queste probabilità quelle che sono delle opportunità, perché ce ne sono tante, infinite come le probabilità. E se anche non riusciremo subito a trovare quelle opportunità, non dobbiamo scoraggiarci, perché prima o dopo ci riusciremo. E se anche non riusciremo come uomini, come società, a trovare cose positive in queste probabilità, sicuramente abbiamo il dovere di farlo verso noi stessi e trovarle almeno per noi stessi. Ciao, un abbraccio forte a tutti. Ciao.